Oltre 14 milioni in arrivo a Milazzo per il progetto di riqualificazione della riviera di Ponente. La Giunta regionale ha inserito il disegno presentato lo scorso anno dal Comune nell'elenco delle opere siciliane che verranno finanziate con il Fondo per lo sviluppo e la coesione attraverso il Ministero per il Sud. Risorse che saranno messe a disposizione della Sicilia già nei prossimi mesi, subito dopo l'insediamento del nuovo governo nazionale. Grazie a queste risorse i 7 chilometri di costa che collegano il tono al Ponte Mela cambieranno volto attraverso una valorizzazione del lungomare e di tutto il terrapieno che in molte zone si presenta disastrato ed incompleto. Questo progetto rappresentava sicuramente la scommessa più importante per l'amministrazione guidata dal sindaco Pippo Midili che si dichiara orgoglioso del risultato raggiunto ringraziando il presidente Musumeci e il deputato Pino Galluzzo per la sinergia. Il progetto divide la riviera di Ponente in quattro aree tematiche interconnesse, l'area culturale, quella verde, la zona mercato e l'area sportiva. L'area culturale è compresa tra la Baia del Tono, la più frequentata durante il periodo balneare fino allo stadio di calcio che sarà demolito per ricavare un'ampia aria da destinare a parcheggio. L'area verde verrà integrata con altri alberi e piante colorate resistenti alla salsedine e prive di manutenzione. All'incrocio tra San Papino e via Marinaio d'Italia una nuova piazza con tribuna integrata permetterà di godere dei tramonti di Ponente. Il vecchio palazzetto dello sport verrà sostituito con un impianto sportivo polivalente. L'area mercato ospiterà anche percorsi dedicati ad attività motorie e si potranno organizzare gare di triathlon, ciclismo e atletica in uno spazio sicuro integrato. Oltre al vecchio palasport previsto anche lo spostamento del campo di calcio Marco Salmeri e dell'area del poligono di tiro a segno di via Tucori per la quale l'amministrazione chiederà al demanio militare di individuare un'altra sede. Insomma una vera rivoluzione sulla quale l'amministrazione punta per rilanciare il settore turistico. Grazie per la visione! Grazie per la visione!